Buongiorno, sono Bruno del Frantoio al Val di Brani, sono qui per parlarvi del nostro piatto che proporremo a Toscana in Bocca, il nostro piatto tradizionale della nostra tradizione toscana, lo stoccafisso al sugo, lo facciamo come tradizione a pistoia, ammolliamo questo stoccafisso che effettivamente è un stocco duro, ammollato per 5 giorni circa in acqua corrente, dopodiché lo sbollentiamo con acqua salata e limone e poi lo puliamo, lo scagliettiamo e lo poniamo in un bel recipiente con le verdure classiche, il soffritto senza soffriggerlo con il pomodoro passato, un po' di peperoncino, lo facciamo cuocere a lungo per circa due ore e mezzo o tre, dopodiché deve riposare e il giorno dopo magari è ancora migliore come prodotto, saporito e pertanto lo potete trovare nel nostro ristorante per quasi sempre insomma ecco, pertanto veniteci a trovare sia a Toscana a Bocca che al nostro ristorante grazie 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 grazie